Vogliamo un'Europa dove il matrimonio sia fra una mamma e un papà e i bambini vengano dati a una mamma e un papà. Le altre schifezze non le vogliamo neanche sentir nominare. I cittadini hanno pienamente capito il fatto che il mainstreaming e i poteri forti non facevano i loro interessi ma cercavano semplicemente di renderli degli schiavi. Abbiamo il diritto e il dovere di dire che una famiglia, che la famiglia è composta da mamma e papà e non altre strane alchimie che qualcuno vorrebbe imporci. Cosa sta succedendo? Succedeva che la battaglia contro uno stato centralista e oppressore iniziava. Addirittura i dipendenti e le dipendenti che mettono al mondo un bambino, quando tornano sono molto più bravi di prima. La famiglia è fatta da una mamma e da un papà, altre alchimie le lasciamo ad altre.